Ritorno al mercatino di beneficenza dal 26 al 30 dicembre. Saremo presenti presso la paracchia dei Capuccini a Pesaro, in via Cardinal Massaia numero 1. Tutti i giorni siamo aperti dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00. Vi invitiamo caudamente a visitarci. È un'occasione per aiutare i poveri delle nostre missioni in Perù e in Bolivia e per ridare una seconda vita a tanti oggetti che possono ancora essere utili. Quindi venite a trovarci e così intanto tanti auguri.